Scarano e Marchitti, vincete la prima finale interregionale, insomma bellissima finale, vi volete in 2-7, vi chiedo se siete contenti di questa vittoria, ma in generale anche un commento a tutto il percorso della squadra. Assolutamente, questa è la nostra terza alba triatica e sono solo due anni che giocamo insieme, siamo crescute tantissime perché crediamo tanto in noi stesse e abbiamo un coach che crede in tutti noi. E' una partita veramente piena, ricca di emozioni contro le campionesse italiane, contro le campionesse di alba triatica, tanto di campionato perché siamo bravissime, un clausone che ce l'abbiamo fatta. Scarana vuoi dire qualcosa? Assolutamente sì, intanto il gruppo è strepitoso, il gruppo comandato dal nostro coach Antonio Vailaro, dal precedente coach che ci ha allenato anche in Unicotra e soprattutto da una società che fa di tutto per farci crescere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.